Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dove ritorniamo a parlare di fotografia tramite lo smartphone. In questo video vedremo un'applicazione per iOS che si chiama Camera M, scoperta per caso sull'Apple Store, mi sembra che non costi più di 5€, però c'è delle sorprese perché sì che più o meno è la stessa applicazione che possiamo vedere in giro per l'Apple Store o su qualsiasi smartphone installata, permette di fare diciamo le cose solite, però all'interno ha delle funzioni che vi stupiranno. Una cosa che ho detto nel video, perché io faccio prima i video e poi faccio l'intro ovviamente, ho detto che non funzionava con l'iPhone meno dell'iPhone XS, però provando col mio iPhone 8 Plus alle volte funziona, alle volte non funziona, dà un errore di cosa, state dite cosa, cosa non funziona. Giusto, la funzione Depth, praticamente la profondità di campo, questa funzione che è molto interessante. Purtroppo, come dico adesso e non mi ricrederò perché è la verità, dall'iPhone XS in poi, penso anche sull'iPhone X, funziona egregiamente perché permette di fare un sacco di cose, questa profondità di campo. Mentre sul mio iPhone 8 Plus, che pur avendo due lenti, delle volte dà una bella schermata lunga, di un errore che non si capisce bene cosa sia, però delle volte funziona. Quindi, dopo la nostra amatissima sigla, che purtroppo qualcuno odia, le sigle, non facciamo nomi, vedremo di cosa parlo. Ah, vi anticipo che poi avremo due prove su campo, perché io avrivo fino all'iPhone XS, mentre il mio collega, ormai collega e compagno di viaggio, Ermanno Azzolini, in cui vi invito a iscriversi al suo canale, perché è molto interessante anche il suo, farà una prova sul suo iPhone 11 Max. Dopo la sigla vedremo la prima puntata, ovviamente vedremo una panoramica dell'applicazione. Allora, ecco la nostra camera M, l'interfaccia questa purtroppo su iPhone XS, perché alcune funzioni nel corso di questi video non potranno essere utilizzate in versioni minori di iPhone. Purtroppo mi dispiace. Io non so perché su iPhone 8 non funziona, diciamo, la distanza focale, praticamente la profondità di campo. Comunque, vabbè, lasciamo stare questi piccoli dettagli. Iniziamo ad analizzare la nostra interfaccia. Al centro abbiamo ovviamente la nostra interfaccia che ci indica quello che stiamo riprendendo, ok? E abbiamo di qua l'indicazione del formato della nostra foto che stiamo scattando, in che formato lo stiamo scattando, e qui sopra in che sezione siamo. Infatti adesso sono in sezione normale, fotografica normale. Abbiamo ovviamente la regola dei terzi, vedete qui ovviamente abbiamo una regola dei terzi, e di qua abbiamo una serie di comandi. Iniziamo dalle cose più semplici, ok? Perché ci ho messo un po' per capirla. Qui abbiamo lo zoom, ok? Tele e wide. Qui ovviamente io ho l'XS, quindi ho solo due, ho niente possibilità. Ovviamente nell'X, nell'11 sarà 4, poi nel 12 ci saranno 15 cose, vabbè, parte gli scherzi. Iniziamo da qui, qui in questo termometro abbiamo la bilanciamento dei bianchi, che per me funzionano tutti nella stessa maniera, ok? Nella stessa maniera. Allora, innanzitutto qua sotto, in questo tastino qua, abilitiamo la funzione, diciamo, di scelta del momento che stiamo riprendendo. Vedete, abbiamo le solite situazioni, ok? Cliccando sul lucchetto torniamo in modalità automatica, perfetto. Oppure cliccando sulla A blocchiamo, ok? Il bilanciamento dei bianchi, perfetto. E qui in qua ci siamo. Nel contagocce, molto interessante, possiamo andare a prendere una sezione di, una porzione di immagine, muovendo ovviamente la nostra camera. Ora non la muovo, però possiamo, diciamo, come dire, dire che ho preso il bilanciamento dei bianchi su questo, sul centro di questa immagine, ok? E clicco. Poi ovviamente vedete come cambiate, vedremo ovviamente in tutorial pratici come poi muoversi con la videocamera, con la fotocamera, e ovviamente fare delle foto ad hoc. Per ritornare in modalità automatica, clicco qui, ok? Vedete che vi viene di proposto di nuovo di andare in modalità automatica o manuale, ok? Perfetto, qui ci siamo. Penso che sia stato abbastanza chiaro come decidere il bilanciamento dei bianchi, molto importante in fotografia. Andiamo avanti. Qui abbiamo l'otturatore, abbiamo l'ISO e abbiamo la velocità dell'otturatore. Anche qui abbiamo i due slide. Innanzitutto appare lo slide della compensazione dell'esposizione. Vedete che sto compensando in negativo e in positivo, ok? Se clicchiamo su questi due valori, la stessa cosa come per il bilanciamento dei bianchi. Da una parte abbiamo la possibilità di abbassare gli ISO, ok? Spero, sì. E da un'altra parte abbiamo la possibilità invece di abbassare la velocità dell'otturatore, ok? Perfetto. Possiamo bloccare uno dei due, dei due, dei due, ovviamente, parametri, ok? Io posso, vedete, adesso bloccare, ho bloccato questo e posso muovere solamente il, la velocità dell'otturatore. Vedete che adesso se vado qua muovo solo questo. Se vado, se vado, se vado al centro, blocco o sblocco tutti e due. Vedete, adesso è tornato in modalità automatica, ok? Ho bloccato o in modalità automatica e qui ovviamente posso bloccare nuovamente quando mi muoverò ovviamente dalla mia posizione i due, i due, i due parametri, ok? Qui ci siamo. Poi andremo a vedere ovviamente nel dettaglio come funzionano, però sappiamo che possiamo regolare sia gli ISO che la velocità dell'otturatore. uscire da questa impostazione è semplice, basta cliccare di nuovo sull'iconetta e ritorniamo di nuovo nel bilanciamento dei bianchi. Se riclicco sull'icona ecco, dovrei riuscire, ok? Anche da questa situazione. Andiamo avanti, qui abbiamo la messa a fuoco che anche qui abbiamo le due possibilità. La macro, ovviamente, metterà a fuoco più da vicino o questo lungo campo che metterà a fuoco, infatti mi metterà a fuoco lungo campo giustamente sorpassandomi l'oggetto che c'è davanti. Oppure, se io clicco, ecco, una cosa molto interessante che vedremo, abbiamo il tracking del fuoco, ok? Io se muovessi adesso dalla sua posizione questo oggetto, il fuoco, il tracking andrebbe dietro, infatti sta impazzendo. Anche qua abbiamo la possibilità di andare in manuale o in manualità automatica cliccando su, ovviamente sempre l'iconetta e andando su e giù con questo cursore, vedete, ok? Se voglio riportare tutto allo stato iniziale clicco sullo schermo. Abbiamo la possibilità anche qui, sta impazzendo il tracking, abbiamo la possibilità anche qui di contornare, vedete, gli oggetti, quelli che sono a fuoco e quelli che non sono fuori fuoco, vedete, adesso ho messo a fuoco diciamo questo obiettivo e quindi si è contornato tutto e è perfettamente a fuoco, spero. Abbiamo la possibilità anche di mirare l'oggetto che devo mettere a fuoco, ok? Vedete? Ok, l'oggetto da mettere a fuoco, perfetto, una cosa molto ben fatta questa applicazione, uscire dalla messa a fuoco manuale si clicca qui e torna tutto in automatico, ok? Ci siamo. Qui sotto abbiamo il flash, qui abbiamo la possibilità di aumentare, diminuire l'intensità, scusate, del nostro flash, abbiamo ovviamente le situazioni che sono in automatico, spento, oppure acceso per sempre, ok? Lascio spento che è meglio. Ok, qui dentro abbiamo una serie di parametri, ok? Andiamo a vedere i primi parametri, Allora, abbiamo innanzitutto qui la possibilità di selezionare se vogliamo ovviamente essere localizzati o no, ok? Qui abbiamo la possibilità di scegliere il formato del file, abbiamo un sacco di opzioni, vedete? Fino a raggiungere il nostro rav, amato rav. Qua sopra abbiamo la modalità di scatto che parte da quella semplice, quella paga mezzo, no scherzo, quella col timer, ovviamente, ok? Abbiamo il timer da 5 a 30 secondi, tanto direi, abbiamo la, questa è una, la funzione penso che sia panorama o soggetto, poi lo vedremo ovviamente in atto pratico, abbiamo la posizione sportiva, abbiamo l'iFoto, ok? E abbiamo la profondità di campo che funziona molto bene perché è una cosa veramente pazzesca, ma questa ve la facciamo vedere quando avremo ovviamente fatto le dovute prove e qua abbiamo lo scatto doppio, scatta una foto diciamo a wide, diciamo a grand'angolo e una foto zoomata, ok? Ovviamente sì, abbiamo ovviamente la possibilità di avere due obiettivi, ok? Magari tre, non so, poi sull'11 faremo ovviamente le dovute prove e andremo a vedere cosa, come si comporta. Qui abbiamo le nostre, ovviamente le regole, le regole dei terzi e tutto quello che vogliamo metterci e qua infine abbiamo l'orizzonte se vogliamo ovviamente abilitarlo o no. Possiamo uscire con la lettera schiacciando su X andiamo di nuovo nelle barrette perché vi faccio vedere qua abbiamo una serie di opzioni, ok? Che poi andremo ad analizzare per quelli che ci possono interessare, ok? Abbiamo ovviamente il formato del preview, andiamo a vedere se è possibile, se si possono interessare in questo corso di questo tutorial e portare indietro la macchina fotografica. Ah, una cosa che ho dimenticato, la tripla esposizione. Se andiamo di nuovo dove abbiamo visto che ci sono gli ISO e il duratore, clicchiamo su questa iconetta perdonatemi, abbiamo la tripla esposizione, cioè possiamo prendere l'esposizione della nostra foto su tre parti diverse e poi andremo a vedere come. Questa è una cosa molto interessante, molto molto interessante. Ok amici, avete visto che bella questa applicazione e come è interessante? A me è piaciuta un sacco, non so voi, fatemi sapere nei commenti, io ovviamente continuerò a portarvi video su questa applicazione e continueremo insieme a Armando a portarvi video su questa applicazione scoprendo mano a mano tutte le funzioni. Vi ringrazio per tutti gli iscritti che stanno arrivando, vi rimando al prossimo video, un abbraccio da Gennaro. Grazie a tutti.